Il concetto di alimento funzionale è alla base del progetto Eco Nutra Prevention. L'alimento funzionale è un alimento che ha una caratteristica in più rispetto all'alimento classico perché è potenziato con una serie di molecole bioattive antiossidanti che possono in qualche modo contrastare gli effetti dei microinquinanti organici e inorganici e quindi in particolare può costituire un modo per cercare di limitare il danno che si ha a livello di abitazione, di abitare in un luogo come quello della Terra dei Fuochi. È un modello che stiamo cercando di creare per far capire come attraverso un'alimentazione potenziata è possibile prevenire lo sviluppo di patologie cronico-degenerative. Che cosa ne pensa quindi dell'iniziativa promossa dalla Fondazione Pro? Questa iniziativa mi è sembrata assolutamente straordinaria. Devo dire che la giornata di oggi è stata estremamente interessante e questo connubio anche con l'alimentazione di cui io mi occupo perché lavoro presso l'Istituto di Scienze dell'Alimentazione è assolutamente straordinario e importantissimo. Cioè bisogna imparare a nutrirsi bene per cercare di mantenere uno stato di salute ottimale e per fare prevenzione. Grazie. Grazie.